Si chiama favolosa, un aggettivo che qualifica appieno le sue straordinarie capacità. Si tratta infatti di una particolare cultivare di olivo in grado di resistere alla xylella fastidiosa, il batterio killer che ha distrutto chilometri e chilometri di oliveti a partire dal sud della Puglia. Se ne è discusso a Trani, dove ha preso il via una due giorni di approfondimenti dedicati all'olivicoltura, un'iniziativa promossa dal Consorzio Oliveti d'Italia e da Soprolibari con il patrocino dell'assessorato regionale dell'agricoltura e del comune di Trani. Esperti, assaggiatori e docenti universitari a confronto con l'obiettivo di porre le basi per una vera e propria comunità di produttori dell'olio extravergine della FS17, l'altro nome della favolosa. Un gioco di squadra che prospetta una serie di vantaggi. Lo stare insieme ci permette di moltiplicare esperienze positive, di migliorare la conoscenza regionale e quindi portare subito a reddito gli investimenti e avere anche costi competitivi che permettono al consumatore di poter spendere e comprare un prodotto d'eccellenza senza per forza avessi di sacrificare per comprare al supermercato un prodotto da 3, 4, 5 euro che magari non dà quella qualità che vogliamo. Quindi la rete è fondamentale, ce lo stanno spiegando in tutti i settori, nell'agricoltura e nell'agricoltura è ancora più importante. Resistenti al batterio killer degli olivi, la favolosa è donie sia per una produzione ad alta densità che per gli impianti tradizionali, permette bassi costi di gestione ed è in grado di assicurare un'elevata resa in olio di ottima qualità. Una speranza che è già una certezza per l'olivicoltura pugliese e non solo. La forza di una varietà giovane, di un nuovo brevetto, di un nuovo incrocio tutto naturale tra diverse varietà italiane e per puro caso il Signore ha voluto che noi di Asso Pro Ribali la continuassimo a coltivare in questi vent'anni quando tutto il mondo tentava di ostacolare la crescita. Poi si è scoperto che l'esistente ha dato la prima speranza, ora stanno uscendo nuove varietà benvengono per incrementare il patrimonio olivicolo e semplicemente nei suoi vasi linfatici riesce a tollerare i batteri, quindi se lo tiene in corpo non ha nessun effetto negativo, quindi la pianta non secca e continua a produrre frutti abbondanti in maniera anticipata. Al terzo anno, al quarto anno già si hanno raccolti che soddisfano i fabbisogni dell'imprenditore e quindi del mercato. Tanti i temi trattati così come i relatori chiamati ad intervenire tra gli ospiti della prima giornata il professore Alessandro Leone dell'Università di Bari che ha parlato di innovazioni tecnologiche nei processi di estrazione e delle prospettive future in campo olivicolo. Ci sono tante innovazioni che sicuramente possono essere prese in considerazione per migliorare il processo estrativo dal punto di vista delle rese di estrazione e della qualità oppure ancora meglio della sostenibilità. Le più recenti innovazioni vanno proprio in questa direzione, della sostenibilità e quindi sono state introdotte recentemente le più moderne selezionatrici ottiche, gli scambiatori di calore, decanter di ultima generazione, ma soprattutto si sta tanto lavorando in termini di controllo di processo, di registrazione dei dati e in futuro immaginiamo di poter introdurre l'intelligenza artificiale in frantoio a coronamento di un processo innovativo che dura da decenni.